Sono d'accordo con il procuratore anticorruzione Cantone e con il presidente del Consiglio Conte che sono stati i primi a dire che bisogna rivedere questa norma perché ci sono troppi fascicoli aperti che finiscono in nulla. Io voglio mettere in galera i ladri, però voglio che sindaci, imprenditori, funzionari pubblici, presidenti, associazioni di volontariato, cittadini possano lavorare tranquillamente. Quindi che ci siano evidentemente dei problemi, l'ha detto Cantone, l'ha detto Conte, sono d'accordo con loro. Matteo Maio dice che ci sarà il nostro muro. Ma lo dica il suo presidente del Consiglio, è il presidente del Consiglio, bisogna rivedere l'abuso d'ufficio perché sta bloccando il Paese e quindi si mettono d'accordo fra di loro.